9 e 10 giugno 2023, Arti Visive Pescheria, al Centro Arti Visive Pescheria ci vediamo per questa seconda edizione degli Stati Generali, un momento di condivisione, punto della situazione rispetto alla prima edizione dello scorso anno. Sono invitati tutti, potete partecipare se siete rappresentanti di associazioni piuttosto che di enti, liberi cittadini, se avete proposte, voglia di ascoltare e condividere il tema dell'accessibilità, i temi dell'accessibilità, vi aspettiamo al Centro Arti Visive Pescheria il 9 e 10 giugno, potete iscrivervi anche per richiedere il pranzo per il sabato, le giornate saranno venerdì pomeriggio e sabato tutta la giornata con i tavoli di lavoro nel pomeriggio, ma potete richiedere per il sabato anche un pocket lunch che abbiamo preparato per l'occasione, potete richiedere se avete bisogno un transfer per coloro che hanno mobilità ridotta direttamente al Centro Arti Visive Pescheria, ma tutti potranno partecipare, vi aspettiamo perché sarà il momento giusto per fare il punto della situazione, capire cosa sta funzionando, cosa non ha funzionato, cosa siamo riusciti a attuare rispetto all'anno scorso, ma soprattutto e finalmente avere la prima restituzione del PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che l'anno scorso è stato richiesto, che abbiamo commissionato e che quest'anno potremo vedere. Torniamo per la seconda edizione degli Stati Generali che quest'anno addirittura raddoppia le giornate, perché l'anno scorso abbiamo vissuto questa esperienza in una mezza giornata di tavoli di lavoro che coincidevano un po' con gli assessorati, di discussioni si erano fatte tante, c'è stata una pubblicazione di tutto il resoconto di quei tavoli e quest'anno partiremo proprio da quel resoconto, quindi quella lista e quel renderci conto effettivo di che cosa è stato fatto, di che cosa ancora dobbiamo fare, come potete immaginare tante cose, tante ne abbiamo fatte, ma tantissime sono ancora quelle da fare, saranno proprio lo spunto di partenza di quest'anno e quest'anno oltre al lavoro negli tavoli di sabato pomeriggio abbiamo inserito dei panel di discussione su temi vari, temi che potevano anche questi riprendere un po' i temi degli assessorati, ma capite che la questione della disabilità e dell'accessibilità è talmente trasversale che tutto può andare bene per tutto e quindi partiremo venerdì pomeriggio dopo la presentazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, del Sindaco e una mia relazione e ci saranno dei panel di discussione su temi come la sessualità, che è ancora un grande tabù, un tabù in generale, figuriamoci quando dobbiamo parlare della sessualità ed è un tema di quelli che mi è stato richiesto dai cittadini. Poi parleremo di scuola e quindi anche di ricerca, verranno delle ricercatrici dell'Università di Urbino del Dipartimento di Studi Umanistici e ci racconteranno che cosa sta facendo anche l'università qui vicino a noi. Quindi temi vari che ho la pretesa, abbiamo la pretesa, che coinvolgano i cittadini, anche quelli che non sono direttamente coinvolti dalla disabilità, perché non la vivono personalmente o perché non la vive nessuno dei propri familiari, ma che comunque sono incuriositi. Fondamentalmente quando mi chiedono come mai fai il garante alle persone con disabilità io lo faccio perché sono profondamente egoista e so che se sistemo la mia città per le persone che hanno difficoltà a livello di barriere, se elimino le barriere architettoniche, sensoriali, comunicative e mentali, la mia città e la mia società migliorerà e io vivrò meglio.